Come togliere le macchie d'olio dai vestiti Quando si parla di macchie d'olio si va a toccare un argomento davvero complesso. Eliminare le macchie d'olio non è affatto semplice e spesso non si riesce a farlo nella maniera corretta. Oggi con questa guida andremo a vedere alcuni consigli utili per risolvere questo problema in maniera semplice e veloce. I modi per togliere le macchie sono diversi. Diventa importante utilizzare prodotti specifici. Di seguito vediamo come risolvere questo problema. Sapone di marsiglia, limone e sale. Una buona soluzione è quella di mescolare il sapone di marsiglia con del succo di limone e del sale grosso. È importante agire sulle macchie il più velocemente possibile. La macchia d'olio più passa il tempo più si fissa al tessuto. Ora vediamo il procedimento. Coprire la macchia con il sale. Lasciare agire 10 minuti. Con una spazzola rimuovere il sale. Cospargere la macchia di succo di limone. Lasciare agire il succo qualche minuto. Preparare una bacinella con acqua bollente. Far sciogliere alcune scaglie di sapone di marsiglia nell'acqua bollente. Si può utilizzare anche il sapone di marsiglia liquido. Metterne un tappino. Immergere il tessuto nell'acqua. Strofinare la macchia in modo da eliminarla completamente. Togliere l'indumento dalla bacinella e procedere con un normale lavaggio. Il sale grosso assorbe l'olio in eccesso. Con questo metodo dovresti rimuovere le macchie di olio. Potrebbe non funzionare su tutti i tessuti. Sp釣ami prosperous. Sparta che si. Sparta che si. ma Grazie a tutti.